Ciao ragazzi, eccoci con una nuova ricetta del Gardo per Vino.com. Oggi sarà una ricetta molto semplice ma gustosa. Vi porto con me nell'altriatico, nell'altriatico, l'cesenatico. Guardate che mazzancolla, guardate che colori, che belle. Faremo una mazzancolla cruda con sale, pepe, buccia di lime e un olio aromatizzato alla salve. In abbinamento una selezione in esclusiva per il Gardo per Vino.com di Evo Straminer del 2020, bellissimi, guardate che colore, oro verde, denso, compatto, un agio proprio tipico del vittino della zona, alto agio, of course, con pelmo rosa, acqua di rose, questo tocco di menta e occalicolo. Una bocca densa, aromatica, persistente, profonda e di spessore, questo ritorno di agrumi e questa parte un po' anche quasi geodata. E' una mazzancolla, la dobbiamo prendere, lo stiamo sempre vicino perché mentre ci fanno mangiare, è sempre bello bere, ragazzi, ricordatevi. La nostra mazzancolla, la dobbiamo pulire, il nostro carapace, col coltellino, un grande amico questo, andremo a pulire l'interno della mazzancolla e poi le andiamo ad aprire così. Andiamo a mettere un po' di sale, un po' di pepi, e buccia del lime con la nostra micro più, e questo olio al salvo. Ecco qua ragazzi, mazzancolla dell'agriatico, olio al salvo, sale e pepe e buccia di lime in abbinamento e gimme stremine. Buon appetito!